Domenica 18 giugno torna alla Gran Fondo del Capitano, Pink Edition, un mese dopo che l'undicesima tappa del Giro d'Italia del Centenario si sarà conclusa a Bagno di Romagna Terme. La purezza degli elementi, il calore delle acque e l'intensità dei sapori, la cordialità di una piccola comunità di montagna sono le anime di una terra di incontri. Due percorsi all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi, il lungo di 140 km e 3100 metri e il medio di 86 km e 1700 metri di dislivello. Pedala con noi sulle strade del Giro d'Italia, scegli la Gran Fondo del Capitano, Pink Edition, la Gran Fondo che colora la tua passione. La Gran Fondo del Capitano